Devo fare una mystery box per una mamma e per una figlia Ardua la situazione Allora, la figlia, Martina Pare che sto raccontando una storia Ha 16 anni La mamma, Francesca Ha 39 anni Entrambe amano Il bianco Il celeste Prima scrivo stampatello, poi un corsivo E il nero Dov'è il rosa? Dov'è il rosa? Mi chiedo io Ecco perché l'impresa è ardua Quindi visto che mi gradiscono questi colori Io partendo da questo vestito per la figlia Che poi sai che ve dico? Ha 39 anni, è giovane, quindi La schiena me la può scoprire Con un cardigan sopra eventualmente si risolve il problema Martina ha scritto nelle note che vuole una nostra tuta Quindi deduco che questo